Ciao a tutti! Ciao a tutti! DOOM Wackatation, map number 3, Mr. Splash. Dopo questa map, torniamo al map number 1. Mr. Splash. This is the sea. Qui c'è là il mare. Kobayashi Maru. Qui non ci si può andare. No? Anche perché non so cosa c'è. Qui quando si esce. Noi, un'altra cosa. Non, si fa. Non. Classico. Mù. Mister Splashy, è che la palma che mi bloca, un capivo così è. Park Closet, Mister Splashy Super Happy, Fun Park, senti qui che rinvole, Mister Splashy Super Happy. Qui è chiuso, non c'è niente. Si va qui e si apre il parco giochi. Mi ricordavo tutti questi nemici. Dove sei? Poi vedete se è così, gioco meglio a tenere la tastiera così. Ecco, ora è già un po' meglio, mi trovo meglio con la tastiera messa così. Fatso. Qui nell'acqua c'è qualcosa. Cacodemon. Eccolo. A posto. Qui c'è qualcosa, mi pare c'è un segreto. Qui c'è qualcosa, mi pare c'è un segreto. Nei. Qui c'è un segreto. Eccolo. no mi sembrava qui c'è una crepa cosa si vede il cielo so there is a secret and we can see the sky right here banane l'unico frutto dell'amore è la banana è la banana è l'unico frutto dell'amore è la banana del mio cuore mamma mia c'è quello scemo lì uno sopporto chi è che mi ha sparato ma io lo so cosa ci vuole a questo scemo qui questo tad tadpole wild ride banane qui c'è la giostra qui c'è la rana cyberdemo the frog with the cyberdemo dai ora ci si fa portare dalla corrente let's go mister splashy mister splashy allora davanti ce n'è qui c'è qualcuno anche qui no splash 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 che è rimasto qui vedo c'è un'uscita o ce l'ho fatta a saltarveni sopra qui c'è un braccio aereo mi vedi di qua c'è la faccia e non da di là ecco vediamo cosa c'è qui let's see if there is something here i find a secret lucky che fortuna ho trovato un segreto o le o le o le o le o le uscita è già finito il livello questo il video si conclude lì ho finito il gioco finito il livello le banane banane a volontà banane a fome fuochi d'artificio guarda qui c'è qualcosa c'è delle fiamme che sono finte vedo mi fanno nulla allora questo mi danneggia no è finito anche questo fake lava eccetto un parco giochi è sicuro eh mica possono mettere la lava vero fire fire fireworks i love fireworks so let's do some fireworks come questa si apre no è chiusa vediamo dove si va qui come come guarda chi c'è che si fa? si prova ad andare sull'ascensore o prima si guarda qui dove si va a finire qui ho controllato qui si va su ma facciamo l'ascensore prima vai su guarda dove si va let's take the elevator to see where we go oddio 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 e si da il benvenuto qui c'è dei controlli guarda c'è il cyberdemon ho pigiato qualcosa si sarà sbloccato qualcosa pensa qui cosa c'è qualcosa qui c'è qualcosa allora cyberdemona is very strong we have to be careful dov'è che ho trovato la perla così la prendo la signora me lo ricordo a parte tanto è 92 di salute andiamo mister splash va più veloce dove si va? guarda lì che lavori che panorama ieri ahi aiai cyberdemon cyberdemon oh 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 si mette male oh cyberdemon eat some coconut madonna ce n'è un altro qui si mette male ce n'è due ma io solo non mi arrendo mica sono pronta a tutto fatevi sotto forza fatevi sotto io non mi arrendo vai mangia il cocco stronzo eat some coconut oddio tra poco mi dava un colpo da solo nermoso e un andato no mi sembrava si mette male si mette male eccolo ora toccati se mi arriva un cocco nel muso stavo meglio prima diamo un po' di cubetti di ghiaccio vieni così ti raffreddo mister ice maker tutto per te ok vai oh yeah mister ice maker quindi c'è la rana qui si prosegue qui c'è qualcosa no qui c'è qualcosa in cima al vulcato no c'è la lava finta per fortuna muove la colita e il pam pam bomba ed eccoci di nuovo al punto d'inizio che dici prendiamo le banane qui ne ho bisogno banana pa 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 qui c'è il fatso c'è i gabbiani che mi vogliono cagare in testa tanto per cambiare i gabbiani che mi vogliono cagare in testa ma da chi c'è assaggiate il suono della conchiglia le cagate del gabbiano voglia quanti sono un macello è pieno è pieno no 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 questo lì perché sono venuti da dietro a così dar nulla vengono a lei guarda chi c'è l'amico di sette cervelli vai ammazzatevi tra di voi andato mister splashy amazon river adventure visa qui c'è la chambella per stargalla e Grazie a tutti. Una birra, qualche banana. Guarda, qui c'è la cannuccia. Bevo un po' d'acqua dalla cannuccia. Un po' di acqua rinfrescante. Today's special chum colder. Qui sembra che non c'è nulla. Qui vedrai se c'è qualcosa. C'è qualche segreto. E' pieno, eh? Oh, ce n'è un altro. L'ho visto dopo. Qui mi pare c'è un segreto, ma non sono sicuro. E qui non me lo ricordo come si fa. C'è qualche maniera per mandare giù questa scatola. Ma non mi... Eccolo, vedi l'ho trovato. Ecco il segreto. Olè, 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 olè. Olè, 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 olè. Pam, 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 parababara, parababara, pam, pam. Quanto mi sta sui coglioni questo deficiente qui. Mangia un po' di cocco. Vieni, che ti fa bene. Mangia un po' di cocco, vai. Qui dove c'è il segreto. Qui c'è l'acqua. Qui c'è qualcun altro, no? Vieni, oh. Cazzabubbole. Mister Splashy. Kill Boat Canal. Have Pull. Allora, voglio vedere qui sott'acqua se c'è qualcosa. Allora, voglio vedere qui sott'acqua se c'è qualcosa. Andiamo un po'. Allora. 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 qui, qui, fammi correre perché l'aria poi mi finisce. Non è che posso stare qui di continuo. Non è come Duke Nukem che c'è la maschera che sta sott'acqua. Qui non c'è. affogo. Se no bevo, bevo tutta l'acqua, eh. Ci rimane più nulla. Ok, qui è tutto collegato. Qui c'è le banane. Così stanno fresche le banane sott'acqua, oh. Ma che paura. Qui c'è qualcosa. Sembrava ci fosse qualcosa. Qui c'è le banane. Ma io ce l'ho le tessere. Non c'è ancora nulla di tessere. Allora, adesso, qui c'è Mastercard. Vediamo qui cos'è che c'è. Non me lo ricordo. One hour wait from this pond. Della quanti c'è nello? Allora. Qui c'è un'altra giostra che scivola. Però prima guardiamo cosa c'è qui. Pulisco anche qua. Ci saranno. No. Qui non c'è nessuno. Ok. Allora. Qui che tessera ci vuole? America Express. Allora. A me mi pare, se ricordo bene. Che una tessera. Qui cosa c'è? Ok. Qui non c'è nessuno. Questa è l'uscita e qui è l'entrata. Ok. Una tessera è qui sotto l'acqua. me lo ricordo bene. Qui sotto. Vai. prendo un attimo aria perché se no. Ok. Eccola lì la carta. Carta Visa. Vediamo un po'. Qui non c'è niente. Qui nulla. Eccola lì. Visa. Visa. Con Visa si apre quella porta che era laggiù da quella parte di là. E qui non c'è niente. So, the Visa is right here under the sea, the water. Ok. Adesso si fa la giostra qui che si guarda dove mi porta. E' chiuso perché ci vuole la tessera per aprire, giusto? Vedi, ci vuole la tessera. America Express to open this. Anche qui è chiuso, vero? Poi mi ci fa andare, c'è l'acqua. Ecco, qui si è molto qua. Comunque è chiuso, vedi? Ok. Bisogna andare di qua. Ho la tessera per aprire di là. Ok. C'è l'acqua qui, ora. Oh, c'è gente. Questo. Mr. Splashy Amazon River Adventure. Ok. Vediamo dove si va a finire. Banana. Qui rischau è tutto a aspettare. Questo ragazzo sta aspettando per andare nella gala. Grazie a tutti. Qui c'è un'altra giostra, adesso guarda dove mi porta, Mr. Splashy. Guarda, ora si fa la doccia. Guarda qui c'è il toro. Guarda qui c'è il toro. Qui c'è una statuetta tribale, Tribal Statue. Qui niente, non c'è nulla. Qui c'è il toro. Vai, troppo è tanto che un baio mia diventa assorto. Qui non c'è nulla. Qui si fa la doccia. Guarda qui c'è. Vieni su. E se non va, si fa così. Finito. Bomba. Sensual. Sensual. Un movimento sensual. Sensual. Un movimento sexy. Sensual. Chonggan. Qui c'è un'uscita. C'è qualcosa. Qui c'è delle piccole piramidi. Sembrano di sabbia. Qui c'è una palma. No. No, vi aspetta l'exit qui. eh no questo è brutto lo odio questo lo odio non lo sopporto non mi è uno sopporto questo qui America Express ok ora si va qua e con un altro qui non c'è nulla qui nemmeno anche che non so come ci si arriva qui sopra aiaiaiaiai guarda chi c'è mi fa un bagnetto viene su let's go mister splash si fa la doccia dove siamo finiti ecco siamo tornati all'arrivo ok ora ho la tessera per aprire la rana la tessera per aprire non mi ricordo cosa per aprire l'altra giostra per aprire la giostra qui america express ci vuole c'ho visa manca mastercard mi pare ok andiamo ora aperto let's try this ora si fa questa giostra guarda che panorama che si vede si è fatto un bagnetto in questa mappa tutto acqua qui c'è qualcosa vediamo un po' come si ritorna poi su ecco l'ascensore se no uno come fa torna su andiamo vediamo dove si va cazzagubbola allora qui cosa c'è qui è chiuso qui c'è qualcosa qui c'è una banana ice cube qui va più veloce l'acqua qui c'è una palma qui sembra l'entrata di un tempio sembra di sims the enter of a temple oh ce la fa a montare qui sopra chi è ai 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 c'è un amico di sette cervelli qui si montano l'amico di sette cervelli beautiful sky ma da là come si va qui o via andiamo oh 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 guarda chi c'è c'è il toro qui non c'è nulla bisogna essere bravi a saltare perché ti porta via la corrente c'è le banane c'è i cubetti di ghiaccio di là c'è qualcosa fammi vedere meno male c'è l'ascensore qui se no uno rimane bloccato mi pare qui ho visto qualcosa una porta e che poi si va a collegare ora ora se ci riesco perché c'è la corrente forte non ci si fa aspetta eh forse sì dai dai non ci si fa troppo forte la corrente c'è qualcosa ma qui si apre qualcosa no vediamo un po' cosa si sblocca qui opla si è sbloccato in un punto che ora non mi ricordo più qual è mi sono dimentiato cos'è che si è sbloccato non lo riorto più lì ok ora me lo ricordo dove devo andare qui dovrebbe esserci l'altra tessera per poi aprire l'ultima parte della della mappa non mi vedere dov'è se no mi sbaglio qui ecco qua qui dovrebbe esserci l'altro pezzo della mappa allora vediamo un po' dove si va a finire qui cacodemon e quanti c'è un euro do mangia un po' di cocco eat some coconut qui c'è l'uscita mastercard ora c'è una trappola capace probabilmente c'è una trappola quando mi prendo la mastercard no trappola ok now we go to the door with the mastercard ok woohoo hoppla so this is the door mastercard have pull now if I remember well it's very hard here because there is the cyber daemon I'm going to use I'm going to use the rocket launcher eat some coconut mangio un po' di cocco vieni ti fa bene ok 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 c'è le signorine c'è le signorine hey baby now we have to go here and there is a trap if I remember well it's full of cyberdemons oh oh mamma mia come si fa oh eh oh ma è difficile come si fa oh non mi ha riorda bisogna trovare una via d'uscita se riuscissi a a tornare qui indietro if I can't go back here let's try vai ce l'ho fatta guarda ce l'ho fatta a tornare indietro ok ora mi serve il bonus della salute che era qua da qualche parte ok now we try to fight to the sea bird non mi beccano perché non mi beccano che c'è il tavolo fa da scudo guarda non mi beccano ooooh the table is like a shield mamma mia mantis sole va fatto fatto hey baby c'è un segreto ma mi ricordo dov'è non può essere il segreto andiamo a vedere cosa c'è qui ponce ripara bene pure a ponce vediamo che faccio portare dalla corrente la rana mister splash hey baby water slides con le prendo i take i take this tutti uguali sono guarda and finish I have explore all the map and this is the exit what happening when you exit the map is return to map number one but before I exit I want to see because there is a secret allora devo vedere perché non so dov'è il segreto manca un segreto ma dov'è boh dov'è l'ultimo segreto no clip così faccio like io qui mette qua però questo c'è qui qui non c'è nulla niente che sia questo il segreto qua qui ci sono già stato niente ecco l'ho trovato cos'era il segreto ah dentro questa scatola qui c'è qualcosa come si faceva a farlo andare giù questo ecco guarda ecco come si fa guarda capito si salta si entra qui dentro e c'è l'ultimo segreto guarda eccolo qui il segreto è questo che c'è anche le banane c'è un coso lo zaino con capito vi è questo qui il segreto non c'è altri segreti ho fatto tutto ma si può uscire dalla mappa so i find all the secret i explore all the map i can now i can and exit when you exit this map we return to the map number one in the next videos i'm going to show the the map for the team match or free for all so now we exit mr. splash finish cos'è sti sony video cos'è successo and we return to the map number one this is the map for the cooperative mod for doom vacation the cooperative map the next map i'm going to show the free for all or team that match map so i don't have other things to say and gabbiani che cagano gabbiani che cagano i fai passa le gabine le tavole da servo i ombrelloni i signorini questo ci si può andrà i 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Grazie. Grazie.